Sor Bennato, che dice sull'offerta? Sì, è un'offerta piuttosto diversificata, ha diversi toni, diverse sfumature, diverse sfaccettature, come è giusto che sia per un pubblico che è sempre più frammentato. Per quanto riguarda io sono molto affascinato dai film che mi permettono di riflettere in maniera non banale sul contemporaneo, soprattutto se utilizzano la leva dell'immaginazione spinta, della fantasia. Da questo punto di vista la mia prima scelta sicuramente Vincent deve morire perché, o Vincent deve morire, perché fondamentalmente mi sembra una, a queste atmosfere weird, cioè in cui la realtà si incrina in un modo non facilmente spiegabile però che portano le persone a doversi confrontare con se stesse e col mondo che le circonda, che secondo me è anche un'ottima lente di ingrandimento per capire il periodo che stiamo vivendo ricco di cambiamenti e di trasformazioni. Quindi sicuramente questa sarebbe la mia prima scelta. Poi c'è Rosalie, perché sicuramente è molto didascalica questa metafora della tricosi femminile che diventa anche un modo per riflettere sull'alterità, però mi sembra che anche il tono scelto e anche la voglia di non nascondere la propria identità in un contesto che magari non è pronto ad accettare questi cambiamenti profondi, secondo me è anche una chiave di lettura per concepire alcuni temi che riguardano il contemporaneo e che secondo me possono anche dei modi per mettere alla prova la nostra capacità di immaginare un mondo in cui le alterità possono esprimersi in maniera molto diversa. E poi sicuramente c'è The Penitent, sostanzialmente per due motivi. In primo luogo perché di solito il riferimento a David Mamet è una certezza per quanto riguarda la capacità di sezionare il mondo in cui viviamo e la realtà culturale e sociale che viviamo come una specie di bisturi fondamentalmente. Mamet è difficile che, i riferimenti a Mamet difficilmente sono, diciamo così, deludono da questo punto di vista. Ma poi perché anche per i temi, per questo intreccio che si viene a creare tra il legal thriller ma anche la riflessione politica, la presenza anche in questo caso dell'altro e del diverso secondo me lo rendono anche uno strumento per porci delle domande non banali sui periodi che stiamo vivendo provando a non essere né ideologici di un tipo né ideologici di un altro. Quindi sicuramente queste sono le mie scelte principali. Sentiamo sull'offerta il professor Luca De Luca Piccione da Napoli. I nostri amici docenti cominciamo con il professor Bennato. Davide. Sì, allora dunque, la classifica è una classifica interessante per la distribuzione dei generi da, diciamo così, da appassionato di immaginazione. Sono contento di vedere un paio di pellicole che io ritengo molto interessanti sull'horror penso ad Abigail e ovviamente non posso che apprezzare il fatto che a primo posto ci sia uno dei film su cui c'era più hype in queste ultime settimane. Hype che tra l'altro mi appartiene, che appunto è furiosa. Per quanto invece riguarda la, diciamo così, la questione del, diciamo così, un po' più il senso generale di come interpretare questa classifica, secondo me è più legata alla vicinanza con l'estate. Cioè cominciano ad esserci una contrapposizione tra la voglia di andare al cinema, la voglia di stare fuori e la voglia di avere un'offerta diversa, molto raffinata e molto dettagliata che resta possibile dalle piattaforme digitali, RaiPlay comprese. Infatti io sottolineo la questione che da persona che gli piace andare al cinema e che gli piace molto il cinema, però che non sempre, tutti i weekend, può andare al cinema riesce a recuperare alcune pellicole solo qualche mese o qualche settimana dopo grazie alle piattaforme, oppure come è il caso di RaiPlay, di fare delle retrospettive. Quindi bisogna pensare che in realtà l'utente, l'appassionato di cinema, si cerca di barcaminarsi all'interno di due strategie. Quella che è del mordi e fuggi di certi tipi di cicli di vita molto rapidi dei film in sala e la voglia di godersi certe narrazioni cinematografiche anche più classiche, meno legate al presente, utilizzando le piattaforme, RaiPlay compreso. Professorssa Bragaglia. Professorssa Bragaglia.